eccomi io ho appena finito la registrazione di casa chi insieme ai miei giornalisti fantastici che adoro azzurra valerio e gabriele e adesso mi sistemo un attimo il trucco a retto come vedete queste waterproof le mie sopracciglia finalmente stanno al loro posto visto che sono sempre disordinate vado a questo evento di benefit quindi vi porterò con me sarà sicuramente un evento fantastico un bacione io corro perché quasi corre ragazzi non bisogna mai stare con le mani in mano guardate cosa mi è arrivato questa borsa fantastica di giorgiat polizzi che volevo veramente tantissimo scelto il colore scelto il modello ed è fantastica ragazze quindi io colgo l'occasione per ringraziarla perché è veramente bella e fa tanti auguri per questa bella notizia che ci ha dato qualche giorno fa adesso scappo la abbino a questo look total pink perché il dress code dell'evento di benefit è appunto il pink che è il loro colore e devo dire che mi piace ultimamente mixare i colori vi mando un bacione come vi ho detto vi porterò come io vi giuro che stavo andando via però scendo in portineria ed ecco cosa ho trovato bellissimo mazzo di fiori tra l'altro abbinato pure con il mio look e guardate questa torta buonissima che non vedo l'ora di mangiare ma la cosa più bella sono i messaggi che che mi scrivete e che mi emozionano sempre quindi veramente non so come ringraziarvi per il vostro affetto perché siete sempre presenti in ogni mio momento di difficoltà di felicità e quindi vi amo come vi dico sempre vi amo ciao Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.